Quindi qualcuno mi darebbe la caccia? Sì, danno la caccia agli ibridi da secoli. Ciò significa che sanno farlo. E hanno queste assurde armi da supereroi a cui nessuno è mai scappato. La mia vita sta diventando un film di supereroi. Ma non è finita qui. Quando avrai 16 anni, dovrai scegliere cosa vuoi essere. Umana o mythic. Vuoi scherzare? Devo imparare a guidare e decidere il mio destino? E se non scegliessi? Beh, allora diventeresti una mythic. Il che significa solo vampiro. E faccio la sostituta nel vampiro dell'opera? L'ironia mi uccide. Insomma, io voglio essere nel musical non invisibile sostituta. Ti rendi conto che Liana ha già imparato tutta l'opera a memoria? Sono tipo un milione di pagine. E io sto qui con poteri che non posso... neanche... usa! A presto! E azzi